Andrea, per scrivere racconti ci serve il dono della sintesi? Per scrivere racconti si deve avere il dono della sintesi. Se non ce l'hai, innato, bisogna procurarselo. Come? Esercitandosi in quella direzione. Per esempio, prendi il racconto che hai appena scritto, ridúcilo della metà, senza snaturarlo, senza perderti niente per strada, in termini di trama, immagini, sequenze importanti, ritmo della pagina. Poi ridúcilo a un quarto e vedi che effetto ti fa rileggerlo a voce alta nelle diverse versioni. E potresti anche avere delle sorprese. Oppure scrivi direttamente un racconto in un certo numero precisato di parole, come succede di dover fare quando te lo commissiona un giornale. Un racconto breve, di cui sono particolarmente orgoglioso, lo scrissi per le pagine culturali di Un Grande Quotidiano. Il tema era obbligato, doveva essere necessariamente sulla festa degli innamorati, il 14 febbraio. Avevo a disposizione poco spazio, mi avevano dato anche un limite più risicato del solito, due cartelle e mezzo, forse. Dopo aver scritto il racconto, che era di una decina di cartelle, feci quel famoso discorso della riduzione progressiva. E il racconto venne benissimo, molto meglio della prima versione. Tagliai tutti gli orpelli sentimentali e cronachistici. Per scrivere storie brevi bisogna scrivere nel modo più stringato e diretto possibile, con un numero ridotto di parole e di immagini, con un numero limitato di personaggi, oltre al protagonista, che devono essere tutti memorabili. Evitate di descrivere le emozioni, gli stati d'animo, le psicologie dei vari personaggi con espressioni ovvie, usurate, come era triste e solo, scoppiava di felicità, aveva il cuore a pezzi o simili. In generale non dichiarate i sentimenti, concretizzateli in una figura che resti in mente, in un particolare, e riempitelo di significato. Quindi inventate una specie di metafora, utilizzando il cosiddetto correlativo oggettivo. Che cos'è? Il correlativo oggettivo è un concetto poetico elaborato dal poeta Thomas Stern Elliot, che lo definì come una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi, pronta a trasformarsi nella formula di un'emozione particolare. E esso consiste nel rappresentare sulla pagina una determinata sensazione o emozione attraverso alcuni oggetti concreti, che dovrebbero suscitare nel lettore ciò che prova il poeta. Visualizzate nella mente il racconto prima di dargli una forma scritta e cercate un dettaglio che avvii la storia il più vicino possibile al punto di svolta o al punto culminante, climax. La prima frase del racconto è di fondamentale importanza. Pensateci bene, non mettetene una qualunque. Riflettete che è l'origine di tutto quella frase. Lo stesso dicasi per l'incipit del racconto, cioè le prime dieci o quindici righe, che devono essere un'esca forte per il lettore e invogliarlo a continuare a leggere. Dovete decidere pure chi tra i personaggi è quello giusto, a cui affidare la voce, il punto di vista, in base a cosa pensa, a che ruolo ha, a che cosa deve fare. Altrimenti possiamo decidere di raccontare la storia da un punto di vista esterno, oggettivo. I personaggi hanno vissuto cose che non figureranno nella nostra narrazione, ma che li hanno portati fino al punto dal quale partiamo noi per raccontare. Eventi, situazioni che noi dobbiamo conoscere bene. Uno dei modi per creare un personaggio, in poche parole, è il dialogo. Per scrivere un dialogo che funziona nello spazio ristretto di un racconto, bisogna che porti avanti l'azione. L'azione in un racconto è tutto. Riassumendo, del mio personaggio non devo dire tutto, ma devo sapere tutto, come è e che cosa pensa. Ci sono due modi per caratterizzare un personaggio, come sappiamo. Un modo indiretto, descrivendolo, e un modo diretto, attraverso dialoghi e azioni. Il secondo, in linea di massima, è preferibile al primo. Una regola drammaturgica, che proviene un po' dalla poetica di Aristotele, un po' dal cinema, ci dice che una buona storia è divisa in tre atti, che è un'architettura che attinge dall'inconscio individuale e collettivo, ricalcando lo schema del viaggio dell'eroe. Il primo, in cui si presentano luoghi e personaggi, ponendo le basi di una tensione fra di loro. Il secondo, in cui avviene l'esplosione del conflitto. Il terzo, che contiene la risoluzione della crisi. Ovviamente, come ogni regola, può essere trasgredita, mantenendo tuttavia sempre alta la tensione, che crea movimento e quindi crea la capacità di catturare l'attenzione di chi legge. Il movimento in un racconto può avvenire anche molto dalla punteggiatura. In alcuni scrittori la punteggiatura è fondamentale, va a incidere parecchio sullo stile. Per esempio, Hemingway. Bisogna leggere e rileggere il proprio racconto, a voce alta, per sentire il respiro delle frasi. La riscrittura, o revisione, o editing, è un momento importantissimo nella lavorazione di un racconto. Correggendo, integreremo qualcosa che manca, ma soprattutto taglieremo il superfluo. Dopo aver terminato il vostro racconto, fate passare un po' di tempo, in modo che quello che avete scritto possa ossigenarsi come un vino. Alla prossima! Radio Genius Se ti piace, metti mi piace.